Salve a tutti, benvenuti a questa lezione sulla vita di Eugenio Montale. La prima cosa che dovrete ricordarvi è che Montale era un genovese. Nasce a Genova nel 1896, esattamente il 12 di ottobre, data importante perché è l'anniversario della scoperta dell'America tra l'altro da parte di un genovese, Cristoforo Colombo. Suo padre, Domenico Montale, era un imprenditore, infatti era titolare di una ditta che importava prodotti chimici e per questo aveva avuto modo di incontrare Italo Svevo, che a sua volta dirigeva un'azienda di vernici. Anni dopo Eugenio Montale conoscerà Italo Svevo e quest'ultimo si ricorderà del cognome Montale proprio per questi contatti commerciali. Eugenio era un ragazzo dalla salute un po' debole, oltretutto era l'ultimo di sei figli e quindi per questi motivi non era destinato ad entrare nella gestione della ditta di famiglia. Lo fecero studiare all'istituto tecnico industriale e si diplomò in ragioneria, ma non era questa la sua passione. Egli amava la letteratura, ma in questo campo ovviamente dovette fare tutto da solo, poiché non aveva fatto studi specifici né alle superiori e né d'altra parte all'università. Quindi possiamo dire che Montale in campo letterario è stato proprio un'autodidatta. Un'altra delle sue passioni fu il canto. Negli anni della giovinezza cominciò a prendere lezioni di canto per diventare baritono e durante tutta la sua vita rimarrà molto affezionato al mondo dell'opera lirica. Era una delle sue grandi passioni. Tra l'altro scrivendo Ossi di seppia, la sua prima raccolta uscita nel 1925, Montale dice di aver obbedito ad un bisogno di espressione musicale, come se appunto all'interno di questa raccolta avesse cercato di sintetizzare il linguaggio della musica, con il linguaggio della poesia. La musica sarà sempre importante per Montale, però ovviamente il suo interesse più importante è quello per la poesia. Ad essa si dedicherà con il maggiore impegno. Nel 1916 scrisse la sua prima poesia importante, Meriggiare, pallido e assorto, che studieremo. In essa troviamo il paesaggio ligure. Ecco tutte le poesie di questa prima raccolta che vi dicevo del 25, ecco qua la data dell'uscita della prima raccolta appunto intitolata Ossi di seppia. Vi dicevo che tutte le poesie che si trovano all'interno di questa raccolta sono ambientate in Liguria, ma non tanto a Genova, piuttosto nella riviera di Levante ed in particolare a Monte Rosso una delle cinque terre. Perché? Perché qui a Monte Rosso i Montale si ritrovavano durante i mesi estivi. Questo paesaggio è cruciale per capire Ossi di seppia, le poesie che studieremo. Infatti troveremo all'interno di questi versi sempre questa contrapposizione tra le colline aride dell'entroterra e il mare. Un altro motivo per cui le cinque terre sono importanti è il fatto che lì Montale conoscerà Anna degli Uberti, chiamata all'interno delle sue poesie Annetta o Arletta. Si innamorerà di questa ragazza e lei gli ispirerà moltissimi dei suoi versi più importanti. Un'altra esperienza importante di questi primi anni di vita di Montale è l'esperienza nella Grande Guerra. Montale, come abbiamo detto, non era molto forte dal punto di vista fisico, ma nel 1917 l'Italia aveva grande bisogno di tutti gli ufficiali di complemento che poteva trovare. E quindi anche il giovane Montale, dopo ben quattro visite mediche, fu dichiarato abile al servizio militare e combatté dal 1917 al 1918, come vedete in Val Morbia, in provincia di Trento, con il grado di sottotenente. Abbiamo visto quindi che Montale pubblica Ossi di seppia nel 1925. Non è stato un poeta precoce, poiché aveva già 29 anni al momento della pubblicazione della sua prima raccolta. Due anni dopo, nel 1927, Montale lasciò Genova e si trasferì a Firenze, dove aveva trovato lavoro. Ebbe problemi finanziari per i primi periodi, doveva tornare spesso a Genova per chiedere aiuto ai familiari. Tuttavia, il soggiorno nella città toscana, che era un centro molto importante dal punto di vista culturale, gli permise di conoscere molti intellettuali che frequentavano il caffè delle Giubbe Rosse, uno dei più importanti caffè fiorentini che ancora oggi troviamo in Piazza della Repubblica. Tra questi intellettuali che frequentati appunto da Eugenio Montale possiamo citare Gadda, Vittorini, Quasimodo e anche Gianfranco Contini. Nel 1929 Montale trova un lavoro molto importante. Diventa direttore di il gabinetto Viesse, il gabinetto scientifico letterario Viesse, che possedeva una delle biblioteche più ricche della città. Sempre in questi anni, Montale viveva in affitto presso la casa di un critico d'arte, Matteo Marangoni, che era sposato con Drusilla Tanzi. Tra Drusilla e Montale nasce una storia d'amore che durerà fino al 1963, la data della morte di lei. Nel frattempo Drusilla aveva lasciato il primo marito e si era sposata con Eugenio Montale. Di Mosca, che era il soprannome con il quale viene citata Drusilla nelle poesie di Montale, di Mosca appunto, Montale parlerà soprattutto in Satura, la raccolta che uscirà nel 1971. Come avrete capito Montale era un gran donnaiolo. Infatti ecco arrivare Irma Brandeis. Irma Brandeis è sicuramente la relazione amorosa più intensa che Montale ebbe. Era una studiosa di mistica medievale, una studiosa di letteratura, apparteneva ad un'illustre famiglia statunitense di origine ebraica e al momento che arrivò a Firenze Irma immediatamente si precipitò al gabinetto Viesseux proprio per conoscere Montale, del quale aveva letto le poesie e che amava molto. La relazione tra i due proseguì, tra brevi soggiorni della donna a Firenze e lunghi periodi di distanza poiché doveva ritornare negli Stati Uniti e proseguì fino al 1938 in segreto, perché nel frattempo Montale continuava la sua relazione con la Tanzi. Il 1938 è stato un anno importantissimo purtroppo sia per l'Italia che per la vita di Montale. È l'anno in cui vennero promulgate le reggi razziali e questa promulgazione fece sì che Irma Brandeis non potesse più tornare in Italia. I due continuarono a scriversi, il rapporto continuò a esistere per via epistolare, ma ovviamente i due non si videro più. Quel che conta però è che Montale idealizzò la figura di Irma Brandeis trasformandola nel principale personaggio femminile del suo secondo libro, Le Occasioni, e del suo terzo libro intitolato La bufera e altro. All'interno di questi due libri, Irma viene chiamata Clizia. Sempre nel 1938 un altro grande cambiamento avvenne nella vita di Montale, poiché i fascisti non gli rinnovarono l'incarico di direttore del Viesseu e quindi il poeta si ritrova praticamente senza lavoro. Durante la guerra Montale rimarrà a Firenze e lì aprirà la propria casa a poeti importanti come Saba oppure a partigiani come Sanguinetti. Perché era stato licenziato dal Viesseu? Perché Montale era stato sempre un antifascista. Infatti nel 1925 aveva sottoscritto il manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce e soprattutto non aveva mai preso la tessera del Partito Nazionale Fascista. Quindi era un antifascista dichiarato. Proprio per questo suo dichiarato antifascismo, alla fine della guerra Montale venne chiamato dal Comitato di Liberazione Nazionale a far parte del Comitato per la Cultura e per l'Arte. Per un breve periodo si iscrisse al Partito d'Azione ma lo lasciò subito già nel 1946. Quello che è importante degli anni dopo la guerra è il fatto che Montale trovò un nuovo lavoro. Infatti diventò un giornalista. Venne chiamato a collaborare al Corriere della Sera dove venne assunto stabilmente a partire dal 1948 e questo fece sì che Montale abbandonasse Firenze per trasferirsi a Milano. Negli anni tra il 1949 e quelli immediatamente seguenti conobbe a Torino un'altra donna importante nella sua vita, Maria Luisa Spaziani, una poetessa con la quale ebbe una relazione sentimentale e che cantò nei versi della Bufera e Altro con il nome di Volpe. Questa ultima raccolta di cui vi stavo parlando, La Bufera e Altro, appunto è uscita nel 1956. Gli anni 60 del 1900 per Montale furono anni di apparente silenzio poetico. In realtà il poeta scrisse molto ma non pubblicò nulla. In questo periodo tra l'altro la sua fama crebbe sia in Italia che all'estero e nel 1967 venne riconosciuto il suo valore con la nomina a senatore a vita. I versi ai quali lavorò in questi anni uscirono nel 1971 nella raccolta Satura. In questa raccolta troviamo poesie scritte in memoria della moglie Drusilla Tanzi che era morta appunto nel 1963. Il 1975 è l'anno del premio Nobel, infatti Montale venne chiamato a Stoccolma a ricevere questo importante premio Nobel per la letteratura. Due anni dopo, nel 1981, Montale morì a Milano ma venne seppellito a Firenze accanto alla moglie. Bene, con questo abbiamo concluso. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.